Marco Morrone si è imposto nell'edizione 2011 della cronoscalata della croce, corsa individuale a tempi in salita che si è svolta venerdì sera ad Anghiari. Il giovane ciclista dell'Avis Prato Vecchio è stato il migliore tra i 25 atleti in gara ed ha concluso la prova in 2,18 e 94 ad una media di 23,32 km orari. Morrone ha preceduto Fabrizio Ferri e l'anghiarese Alexio Chiarini della Fratres Dynamis Bike. I migliori risultati sotto il profilo cronometrico sono stati realizzati da coloro che hanno utilizzato la bicicletta da strada, mentre nella categoria mountain bike il più bravo è stato Nicola Corsetti che ha impiegato 2 minuti, 24 secondi e 88 centesimi. Sono molto contento di questa prova, non me l'aspettavo di andare così forte, era stata veramente dura, percorso molto corto ma molto impegnativo e che arrivato in vetta ero veramente stanco, ho dato tutto e per fortuna è andata molto bene. Questa è la terza crono scalata che faccio quest'anno, con buoni risultati, non ne avevo mai fatte di così corte, comunque mi ero un po' abituato a questi sforzi molto intensi e è andata molto bene. Il bilancio direi è molto positivo perché è una bellissima serata, un bel gruppo di partenti, anche se speravamo magari in qualche partente in più, però siamo molto contenti per la qualità che è arrivata quest'anno in diari, a dare ancora un valore importante a questa manifestazione che si spera negli anni seguire poi si valorizza ancora di più.